Siamo qua perché in questo momento stiamo presentando un'ufficiale denuncia formale nei confronti del governo italiano, nei confronti di Renzi, nei confronti di Alfano, nei confronti del ministro Gentiloni, che sono i responsabili principali non solo dell'immigrazione ma del fatto che attraverso dei barconi sul nostro territorio siano giunti dei terroristi. Queste sono le conseguenze della politica delle porte aperte del governo, queste sono le conseguenze del fatto che il governo non abbia mai fatto quello che la Lega ha detto, cioè chiudere le frontiere, sospendere Schengen e difendere immediatamente i nostri confini per evitare che venga messa in pericolo, cosa che sta accadendo, la sicurezza e l'ordine pubblico del nostro paese.